che belli che siete fatemi vedere i quadrifogli oh stasera ci sbellichiamo dalle risate perché io ho un presentimento non lo dico guarda la mia faccia vabbè comunque 3 2 1 la prima multi di questa sera ok fa che sia rosaria fa che sia rosaria bianco paradiso è andato a celestia grande 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 partiamo alla grande grazie mobi questa la dedichiamo a mobi questa la dedichiamo a mobi pronti seconda multi seconda multi ok rosaria io non mi offendo se mi dai un'altra rosaria e non mi offendo benny benny ci sta tutto il mio benny bellino ci sta tutto benny mi piace mi piace anche perché se mi esce lui o mi esce razor io vado più che bene a parte perché ce li ho c6 e appunto perché ce li ho c6 mi faccio le star glitter perché ho intenzione di prendermi qualche arma pronti eccolo 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 mi sto salendo l'antia ok benny 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 ti voglio bene benny ti voglio bene bennet ci sta bene come canzone andiamo avanti no no mona no mona no mona ma tu devi stare da savi non devi stare da me gg cosa fa strocco gg cosa ci rimango malissimo devo aspettare il dio nell'oscuro adesso ah raga io me lo sentivo me lo sentivo che perdevo il 50 e 50 me lo sentivo mona e benny bene due buffer mi serve il terzo ti prego abbiamo ancora 8.000 primo la c2 dimone è rottissima ahi no calma zen e speriamo nel dio dello sculo raga dio dello sculo in 8.000 pull ti prego fammi uscire caso ti prego è impossibile però ne ci proviamo 4 stelle abbiamo ancora la speranza di trovare rosaria oh l'occhio però l'occhio l'ho rancappato adesso quindi non mi serve e gain bennet e gain e gain il nostro benny 4 stelle vado scusate ma c'è benny in rate up e basta cioè è un mio problema perché io me cioè se avessi avuto benny c0 l'avrei già fatto c5 rendiamoci conto io non lo so veramente mi ricorda tanto quel banner quando c'era shalini in rate up ok man no non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo ma non è possibile ma ma non è possibile tenni ho capito ti voglio bene anch'io ma non possiamo stare così attaccati sei pure piro fa caldo ma insomma un po' di contegno si guarda io ho una naturale calamita per per i piro i piro li becco subito ho capito perché beh non mi dispiace eh il mio elemento preferito forse sarà per questo dici ema è vero è per la canzoncina avete ragione ti voglio bene benny se mi esce un altro però quitto eh è la madò via ok 4 stelle via no ma io devo cioè devo spegnere devo riaccendere non ho capito ma come funziona non ho capito il gioco raga non ho capito il gioco cioè io ho io ho quitto io ho quitto ma mi sta suggerendo di dargli la c6 perché non gliela do ah c6 eh cioè ti serviva ma no ma se me ne danno un altro e posso metterne due in team ma va benissimo ma va benissimo però insomma 4 stelle così ma così ed è rosaria oddio vai grande dio dello scuro che mi fai trovare rosaria così dal nulla benissimo 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 rosaria c2 yes zi oh no che palle no forse ce l'abbiamo un'altra singoletta che ferma cosa ah balla ha detto che potevo andare sono andata subito aciderbolina razor bello razor ho trovato già no ho trovato mona e domani uscirà il best off delle pool su youtube allora detto questo se volete vedere com'è andata con mobiduck seguitemi su instagram punto esclamativo instagram e seguitemi sulle stories perché veramente erano da scompisciarci dalle risate detto questo andiamo domani domani la già una maratona così a sorpresa è uscita per domani pronti? si è vero best off benny ok non ci credo io ci credo raga domani nel video devo portare il conteggio voglio vedere quanti cavolo di bennett abbiamo pullato quanti ne abbiamo pullati una decina ne abbiamo pullati cioè eri praticamente arrivata al piti eh no infatti sperando al soft piti non al piti al soft piti no ma non è sculo questa volta raga siamo andati proprio nel soft piti ora è sculo se me ne escono due se me ne uscissero due sarebbe sculo ma siamo contenti così via l'ultimo è proprio l'ultimo è ben nette assecchiate vero è proprio l'ultimo quanto sei bello quanto sei bello casua quanto quanto casua sei bello oh finally e ce l'abbiamo e ce l'abbiamo ma io sono troppo curiosa sono troppo curiosa perché voglio troppo mettergli la build quella super broken che abbiamo dato a sacrosa mamma mia mamma mia tra l'altro l'arma gliel'ho già craftata guardate che belli che sono ah non si vede una ceppa però sono belli sono belli tutti e due belli belli a questo punto mi finisco le singolette non si sa mai che esca qualche altra cosa esatto vai rosaria si rosaria sono contenta vai vai continuiamo su questa onda di sculo ebbè era troppo bello per essere ma sono contentissima per rosaria si via dopo abbiamo anche l'ultima ok e l'ultima devo uscire le singolette ma raga si no banner armi no raga tanto comunque sia non pullerei per questa ho il pt troppo 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 basso troppo non pullerei per questa qua onestamente ma semplicemente non perché non è buona ma semplicemente perché non ho risorse per pullare sul banner delle armi io voglio il personaggio nuovo poi le armi mi arrangio a meno che c'è l'unica arma a cui punto è la staff la oma qualora dovesse uscire vedo quello che devo fare e insomma rinuncio a qualcosina e pullo per la oma altrimenti comunque reso conto di questa sera angelo grazie per il follow reso conto di questa sera abbiamo avuto la seconda costellazione di mona altre costellazioni di rosaria ovvero la 2 e la 3 mi fa troppo piacere per rosaria perché la volevo portare su e abbiamo casua abbiamo casua raga abbiamo casua si sono contentissima adoro adoro adoro